Gosnell, il film che converte gli abortisti Confessa una studentessa Ero pro-choice, credevo che le donne dovessero aver diritto di parola e che il governo non dovesse interferire con le nostre vite Oggi sono pro-life dopo aver visto Gosnell Di Benedetta Frigerio Quando nel 2011 il caso Gosnell rivelò la conseguenza ultima della cultura dell'aborto attraverso i crimini commessi dal medico americano che aveva praticato nella sua clinica di Filadelfia migliaia di aborti fra cui 21 oltre il limite consentito e che uccise tre bambini nati in seguito ad aborti falliti per cui sta scontando l'ergastolo la stampa liberal decise di tacere sul caso Poi, quando fu impossibile evitare la notizia che stava scuotendo il mondo abortista i media la liquidarono parlando di Kermit Gosnell come di una scheggia impazzita di un sistema ben funzionante Così, oggi che il film sull'operato del medico è riuscito a vedere la luce dopo un lungo lavoro dei produttori e coniugi irlandesi Felim McAleer e Anne McAleany che hanno lottato ben tre anni prima per girarlo e tre anni poi per trovare un distributore la stampa si sta comportando esattamente allo stesso modo Anche perché la pellicola non nasconde affatto l'assenza in tribunale dei media che lasciarono le prime file riservate alla stampa completamente vuote Basti pensare che il New York Times si è rifiutato di recensire il film persino chiedendo al produttore di mentire sul perché di questa scelta McAleer ha confermato di essere scioccato dalla richiesta del New York Times che ha dichiarato contro l'evidenza che la pellicola non ci è mai stata presentata per una recensione Ma se il fatto è sconvolgente c'era da aspettarsi che il grande quotidiano progressista non avendo praticamente coperto la notizia del processo al medico ora non voglia nemmeno parlare del film La pellicola infatti è davvero potente e riesce persino a sconfessare la tesi per cui la prassi del medico è stata una semplice falla del processo C'è infatti un passaggio che spiega con eloquenza il contrario ossia che Gosnell rappresenta l'immagine dell'uomo che più perfettamente ha incarnato la razio abortista Non mi pento di quello che ho fatto aveva dichiarato il dottore convinto di aver servito e aiutato le donne sebbene non rispettasse nemmeno le 24 ore richieste dalla legge fra la decisione di abortire e l'aborto Insomma, Gosnell aveva solo ripetuto quello che affermano tutti i medici che praticano omicidi in grembo Ma c'è di più perché l'uomo aveva anche domandato quale fosse la differenza fra l'omicidio di un bambino in grembo prima della ventiquattresima settimana e quello di uno nato vivo alla stessa epoca gestazionale Come a dire che cosa cambia fra l'assassinio di un figlio in pancia e dello stesso appena nato? In poche parole il film è in grado non solo di svelare l'abominio delle legislazioni americane che permettono l'aborto tardivo ma di far ripensare totalmente alla liceità dell'aborto a qualunque epoca gestazionale A rivelarlo è il pubblico stesso McKellini ha raccontato al Family Research Council che passerebbe tutto il giorno a leggere le lettere più belle delle persone che hanno cambiato idea rispetto all'aborto guardando il film Sulla pagina Facebook dedicata alla pellicola ci sono diverse testimonianze a riguardo come quella di Kathy Zhu studentessa della University of Central Florida che ha rivelato ai suoi 50.000 follower di Twitter che ieri ero pro-choice credevo che le donne dovessero aver diritto di parola e che il governo non dovesse interferire con le nostre vite Oggi sono pro-life Dopo aver visto Gosnell e aver fatto ricerche accurate ho finalmente capito Per favore andate a vedere Gosnell Lo stesso è accaduto allo scrittore e imprenditore Patrick Courriel che ha confessato di aver abbandonato la sua tesi abortista dopo essere stato al cinema Forse per questo nonostante nel fine settimana del suo debutto il film abbia incassato ben 1.235.800 dollari con produzione e distribuzione indipendenti arrivando dodicesimo al botteghino il boicottaggio il boicottaggio è cresciuto Se prima il giudice del processo al medico Jeffrey Meinhart aveva cercato di impedire l'uscita della pellicola con una causa di diffamazione mentre il colosso delle cliniche abortive Planet Parenthood è riuscita ad annullare alcune proiezioni McAleer ha dichiarato che ora oltre 200 teatri hanno deciso di non proiettare più il film senza nessuna ragione Sempre sulla pagina Facebook del film il pubblico ha aggiunto che diversi dipendenti delle sale cinematografiche hanno scoraggiato i clienti che volevano acquistare i biglietti consigliando loro la visione di un altro film Tutto a dire che dopo il processo e lo scandalo degli organi venduti da Planet Parenthood anche Gosnell The Trial of America's Biggest Serial Killer sta facendo la sua grande parte Per approfondimenti e per vedere il trailer del film Gosnell e per leggere le schede dei migliori film visita il sito filmgarantiti.it e per